un piatto rapidissimo melanzane in pastella preparate una pastella con farina poi della birra ghiacciata e un pizzichino di sale mescolate e fate l'abbastanza densa ecco così che rimanga sul dito dopodiché dopo aver passato le melanzane nella pastella le prendo in questo modo le bagnate ben bene poi le fate anche scolare un po' e le passare direttamente a friggere avanti e indietro ed ecco il risultato un pizzico di sale e vi magnate è veramente un piatto di una rapidità impressionante e poi saporitissimo mi raccomando una volta fritte mettere un po' di carta assorbente in modo tale che assorberle un po' l'olio del cesso i piccani fatele non dico raffreddare ma farle diventare lievite e poi e poi ha un sapore speciale la molignana fritta in cessione da far la meglio e la meglio a questo piatto non dovevi raggiungere niente proprio un po' di pastella delle melanzane tagliate ecco guardate qua una delizia induperabile mi raccomando avrò asciugatele l'olio in eccesso a gridare tutto un altro lavoro a tutti buon appetito e alla prossima